FUJITU LIFEBOOK NH751 FUJITU LIFEBOOK NH751 è un'unità sempre della serie professionale con però un occhio alla grafica e anche all'intrattenimento perché integra una scheda NVIDIA G4 GT525 però con tecnologia NVIDIA Optimus cioè una scheda grafica capace di attivarsi e disattivarsi a seconda delle prestazioni che vengono richieste dalla scheda di video in quel momento e dell'alimentazione quindi è capace di integrarsi anche con le richieste del cliente per far anche durare all'ottimale la batteria la macchina è anche dotata di un subwoofer di un sistema 5 speaker qui lo vediamo nel particolare con il subwoofer posto sotto proprio perché è rivolta anche alla multinevialità lettore DVD e fino a Blu-ray con uscite tra tranquillamente la classica VGA per la compatibilità con tutti i sistemi attuali ma anche l'HDMI ci troviamo sul lato porta VGA e SATA combinata con USB e HDMI slot per Express Car 3454 per espansioni e moduli di alloggiamento come ad esempio il DVB Tuner che viene dato in bundle con questa macchina per poter vedere la televisione in formato digitale direttamente sull'unità quindi registrare anche eventuali film piuttosto che altri contenuti direttamente alla televisione grazie